La redazione giornalistica del GR5 e il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest vi invitano all'ascolto del format La Storia, il Territorio, l'attualità, il futuro. Si è tenuto lo scorso 17 gennaio in Regione il tavolo riso che Coldiretti Piemonte aveva già chiesto ad ottobre all'assessore Ferrero per discutere delle problematiche legate al comparto. Tante le questioni che abbiamo presentato all'assessore Giorgio Ferrero poiché la situazione della risicultura piemontese continua a preoccupare, dalla stagnazione del mercato alla crescita delle importazioni con l'aumento del 736% di riso dalla Birmania fino al sistema della promozione, spiegano Paolo Della Role, presidente di Coldiretti Vercelli e Biella con delega al settore risicolo, Delia Revelli, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Abbiamo sollecitato alla Regione di farsi portavoce presso gli organi preposti a livello europeo per richiedere la clausola di salvaguardia ed abbiamo fatto notare come i ritardi circa i contributi dell'assicurazione sulla grandine, che per alcune aziende risalgono addirittura al 2015, l'attesa del saldo PAC 2017 ed il blocco per alcune imprese delle domande per la revisione delle superfici su campagne pregresse, stiano mettendo in difficoltà il lavoro dei nostri imprenditori. E' opportuno inoltre aggregare l'offerta per essere più incisivi e maggiormente operativi sul mercato moderno, oltre ad essere uniti come parte agricola sulle intenzioni di semina, al fine di evitare sovrapproduzioni di determinate qualità. Auspichiamo, concludono, che al più presto avvenga l'incontro da noi più volte richiesto e come anche l'assessore Ferrero ha proposto di organizzare, con l'industria del Piemonte e della Lombardia, per costruire in modo concreto dei contratti di filiera in vista della prossima campagna risicola. L'influenza di questo periodo ha costretto a letto 4 milioni di cittadini, mai così tanti dal 2004, e il Piemonte conferma questo trend. In 300 mila circa, infatti, dall'inizio della stagione invernale, sono stati colpiti dai classici sintomi che accompagnano la malattia, raffreddore, febbre, mal di testa e naso chiuso. Più di 6 italiani su 10, il 62%, si difendono dall'influenza seguendo una dieta adeguata e mangiando gli alimenti giusti per rafforzare l'organismo e prevenire i malanni. Se la larga maggioranza sceglie di rafforzare le proprie difese immunitarie a tavola, un 14% ha preferito vaccinarsi, mentre un 11% si tutela prendendo medicine e integratori, un 6% evita i luoghi affollati ed un restante 5% ricorre ad altri metodi. Questo è quanto afferma Coldiretti sulla base dei risultati dell'indagine condotta sul sito www.coldiretti.it. Un aiuto a combattere l'influenza arriva dai prodotti made in Piemonte. Un antico rimedio, tuttora valido ad esempio, è quello di preparare latte e miele di castagno, particolarmente prodotto nella fascia pedemontana piemontese, utile contro la tosse, il mal di gola e l'abbassamento della voce. Questo miele, infatti, abbinando il potere lenitivo del fruttosio in esso contenuto ad infusi di erbe, sprigiona il suo potere antinfiammatorio ed antibatterico, che può curare la raucedine efficacemente. I kiwi, di cui il Piemonte ha un importante polo produttivo, che abbraccia soprattutto le province di Cuneo, Torino e Vercelli, per una superficie totale di quasi 5.000 ettari ed una produzione di oltre 100.000 tonnellate all'anno, sono particolarmente indicati in quanto ricchi di vitamina C e sali minerali, per cui hanno un effetto benefico contro i radicali liberi che annientano l'organismo e che sono prodotti in grande quantità nel periodo invernale. Inoltre, per una dieta leggera, senza affaticare l'organismo e digerire cibi complessi, è particolarmente indicato il riso, di cui il Piemonte è la regione italiana con i numeri maggiori a livello produttivo, contando 117.000 ettari, 8 milioni di quintali di produzione e quasi 1.900 aziende. È ottimo da consumarsi semplicemente bollito, mentre all'inizio del Novecento era molto frequente l'uso di somministrare ai malati ed ai convalescenti l'acqua di riso, preparata facendo macerare per tre ore in mezzo litro d'acqua un pugno di chicchi, da far bollire un'ora prima di venire filtrata e bevuta. Col diretti Piemonte consiglia di fare la spesa anti-influenza presso i mercati di Campagna Amica, diffusi in tutte le province piemontesi, per avere la sicurezza di acquistare prodotti freschi e genuini, di cui è possibile tracciare la provenienza, consultando il sito www.campagnamica.it, dove sarà possibile conoscere l'elenco dei mercati in Piemonte. In Italia, nell'ultimo anno, lo abbiamo ricordato più volte, sono aumentate del 736% le importazioni di riso dalla Birmania, paese dal quale la minoranza rohingya è stata costretta a fuggire a causa della violenta repressione da parte del governo, che ha causato ben 6.700 vittime, secondo Medici Senza Frontiere. Questo è quanto denuncia Col diretti alla vigilia dell'entrata in vigore, prevista per il mese di febbraio, dell'etichetta di origine per il riso, sulla base dei dati Istat relativi ai primi dieci mesi del 2017, in occasione del forum sul riso europeo che si è tenuto a Bruxelles. Come abbiamo già sollecitato più volte, chiediamo all'Unione Europea l'immediata adozione di misure di salvaguardia nei confronti dell'importazione di riso greggio asiatico, che gode del regime particolarmente favorevole praticato nei confronti dei paesi meno avanzati, accordo EBA, che prevede la possibilità di esportare verso l'Unione Europea quantitativi limitati di riso ad azio zero, spiegano Paolo Dellarole, presidente di Col diretti Vercelli e Biella, con delega al settore risicolo, degli Arevelli, presidente di Col diretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. Il risultato di queste importazioni massicce è che un pacco di riso su quattro venduto contiene prodotto straniero, con le quotazioni del riso italiano per gli agricoltori, che sono crollate, mentre al consumo i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili. Un inganno che sarà finalmente possibile smascherare, a partire appunto da febbraio, con l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza. Un provvedimento che consente oltretutto al consumatore di fare scelte di acquisto consapevoli e di decidere se comprare il riso, ottenuto in paesi lontani, con lo sfruttamento delle persone e dell'ambiente, oppure quello coltivato in modo sostenibile dai nostri risicoltori. Ricordiamo, concludono, che il Piemonte resta la regione italiana con i numeri maggiori a livello produttivo, con 117 mila ettari, 8 milioni di quintali di produzione e quasi 1.900 aziende. Abbiamo trasmesso Storia, Territorio, Attualità, Futuro, un format realizzato dalla redazione del GR5 in collaborazione con il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest.